Sì, sono Simona Bandiera, da Italia, in Turin, e sono un artesanico, lavoro con la mano e sono un reseller digitale su Amazon. Produco con la mano piccoli prodotti per l'entranzo della casa o la casa, come Dormat, Carpet. Grazie Amazon perché posso vendere i miei prodotti in Europa, anche in Italia, Francia, l'Unione, la Germania e la Spagna. E spero che Love Dormat possa vendere i prodotti in futuro, anche negli USA e nel mercato canale, perché credo che è molto importante questo mercato per i miei prodotti. Beh, ho un piccolo problema perché non ho nulla in stock, produco tutti i miei prodotti dopo l'ordine del cliente. Poi vendere da Italia, negli USA e nel Canada sono molto difficili per me. Se Amazon può aiutare me, con vendere da altri mercati, negli USA e nel Canada, per me è molto bene e è una migliore soluzione. Grazie a tutti.